sicuramente tenterà l'allungo, tra un po' ci sarà uno strappo abbastanza impegnativo esattamente a 1200-1300 metri dal traguardo però vedete che si sono portati al comando gli uomini della Passabortolo ci dovrebbe essere anche Pozzato a questo punto, Nicola Loda sta lavorando Auro, nulla da fare intanto per Pietro Caocchioli si c'è Pozzato c'è Pozzato in terza posizione c'è Bartoli e Pozzato, eccoli lì c'è Rebellin, c'è Lombardi, c'è Bettini si volta Nicola Loda, gran lavoro anche per lui come del resto tutta la squadra e Nardello in contropiede in questo modo Nardello si impose in una Coppa Bernocchi andandosene in vista dell'ultimo chilometro però non è partito fortissimo Daniele Nardello due anni fa si impose per distacco nel campionato italiano che si svolse in Brianza Carate Brianza Auro, Auro Alessandro prego nulla da fare neppure per Gian Matteo Fagnini nulla da fare per Michele Scarponi mi hanno mollato mentre mi sto portando avanti al gruppo vediamo commesso in terza posizione attenzione perché qui potrebbe nascere l'azione decisiva perché c'è un rallentamento c'è uno scatto di un uomo della lampre andiamo a vedere di chi si tratta Manuel Quinziato partito bene, partito benissimo è un ottimo Cronomen già campione europeo della specialità Manuel Quinziato delusione per lui amarissima qui sulle strade marchigiane doveva vincere la cronometro è stato invece superato nei momenti finali da Mondini Quinziato è partito molto forte in prossimità dell'ultimo chilometro gruppo formato da 35 corridori adesso c'è Giovanni Lombardi in prima posizione sta tenendo un po' più affaticata l'azione di Quinziato si sta pesantendo la pedalata qui le pendenze vanno dal 2,5 al 3,5% quindi ascesa costante anche se non proibitiva Lombardi con Bettini in seconda posizione Lombardi e Bettini gesto atletico di primo ordine è quello di Quinziato poi c'è commesso c'è Michele Bartoli Franco Pellizzotti questa è la composizione e Pozzato c'è? si c'è anche Pozzato gran finale è quello di Manuel Quinziato se si controllano troppo il Bonzanino può arrivare eh si adesso si sposta Pozzato passa in prima posizione Bettini eccolo lì Manuel Quinziato mancano 300 metri all'arrivo bocca aperta per Manuel Quinziato sarebbe il successo più prestigioso della sua carriera siamo ai 350 metri dal traguardo ma dietro stanno recuperando velocissimi Manuel Quinziato è ormai sul rettilineo finale ma la strada continua a salire è vicinissimo il gruppo peccato per Manuel Quinziato Bettini è centro strada Bettini potrebbe far valere la sua grandissima classe ed è Paolo Bettini su Pozzato commesso e Carrara che classe Paolo Bettini praticamente senza squadra con due compagni bravissimi come Paolini e come Bramati è riuscito a riportarsi sotto e a vincere Alessandra De Stefano siamo con Luca Paolini ha partecipato a Saitap e sono lo non lo non lo Grazie a tutti.